Il remake del primo Uncharted pare che sia in sviluppo, ci sono di nuovo dei rumori interessanti su Nintendo Switch 2, ma soprattutto la notizia del giorno è che, secondo molti commentatori e che hanno saputo qualcosa dalle loro fonti, Microsoft sta davvero per sostanzialmente rilasciare un sacco, forse, di esclusive anche su Switch e su PlayStation. Parliamo di questo e altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast e grazie mille a Instant Gaming per aver sponsorizzato questo episodio. Allora, gente, questa non è una cosa che dovrebbe cogliervi impreparati, nel senso che un po' di tempo fa abbiamo già parlato di questo rumor, ovvero del fatto che Microsoft stesse valutando di pubblicare alcuni dei suoi giochi anche su Switch e su PlayStation. Questa cosa ovviamente ha fatto discutere molto e non è chiaro quali giochi abbia intenzione di pubblicare anche su piattaforme, tra virgolette, rivali, ammesso che tutto questo sia vero perché si trattava di rumor, diciamo, con una fonte relativamente attendibile ma abbastanza radi. Ecco, solo che a sto giro diciamo che ne stanno discutendo delle persone che di solito sono molto ben informate nell'universo Microsoft e quindi, bene, preparatevi perché ci saranno un po' di cose di cui parlare oggi, ragazzi. Guardate un po'. Microsoft e le esclusive Xbox su PlayStation e Switch, annuncio in primavera? In rete si continua a parlare del possibile arrivo di Hi-Fi Rush e altre esclusive Xbox su PlayStation e Switch, ne avevamo già parlato appunto, alla discussione intavolata partecipa anche Agendelium, dipendente di Zenimax. Nel corso di un podcast sul futuro dell'industria videoludica e delle strategie portate avanti alla casa di Redmond, il dipendente di Zenimax ha suggerito l'arrivo di un importante annuncio di Sarah Bond, la dirigente a capo del team Xbox, in merito alla visione multipiattaforma di Microsoft. Stando a quanto sostenuto da Agent Deli, l'esponente del team verde crociato dovrebbe parlare in primavera per fornire delle importanti delucidazioni sui cambiamenti nella strategia portata avanti da Xbox, con l'approdo in multipiattaforma, presumibilmente Nintendo Switch, PS4 e PS5, di titoli come Hi-Fi Rush e Sea of Thieves. Il dipendente di Zenimax scoglie inoltre l'occasione per rassicurare alla community Xbox e invitarla a non essere preoccupato sul futuro dell'esclusive Xbox, anche se al momento non posso dire altro, il che vuol dire che c'è qualcosa. Suggerendo così un cambio di strategia che dovrebbe coinvolgere solo un ristretto numero di IP, ha detto. Ok? L'arrivo di Starfield su console Sony, attuale generazione, in base sempre alle indiscrezioni condivise dalle fonti anonime citate Xbox era, rientrerebbe nella strategia multipiattaforma di Microsoft che dovrebbe portare all'arrivo di diverse esclusive Xbox su Switch e PlayStation 5. Come suggerito alle gole profonde, la space opera firmata a Todd Howard dovrebbe arrivare su PS5 dopo il lancio della già annunciata espansione Shutter Space di Starfield su PC e Series XS, quest'ultima prevista più avanti nel 2024. Gli informatori anonimi di Xbox era riferiscono inoltre che Microsoft avrebbe effettuato ulteriori investimenti nei kit di sviluppo di PlayStation 5, proprio in ragione dell'arrivo di Starfield e altri IP Xbox sulla console di casa Sony. A prescindere dall'attendibilità e indiscrezioni, ovviamente tutte queste cose vanno prese con le pinze perché queste sono indiscrezioni ma arrivano da Xbox era tramite, diciamo, non è un tizio a caso su Reddit o ancora peggio su 4chan, no? E attenzione, non è finita qua. Anche Indiana Jones potrebbe arrivare su PS5? L'era esclusiva Xbox sta forse per finire? Sempre secondo fonti Xbox era, Microsoft avrebbe pianificato già una versione PS5 di Indiana Jones e l'antico cerchio e sembra anche di altri titoli, fino ad oggi disponibili solo su Xbox e PC. Una fonte di The Verge, molto vicina a Microsoft, rivela infatti come Bethesda stia considerando di portare Indiana Jones e The Great Circle su PlayStation 5 come parte della nuova strategia multipiattaforma di nuovo. Il gioco Bethesda uscirà prima su Xbox e PC e attualmente sembra avere un breve periodo di esclusiva prima di giungere su PlayStation 5 nei mesi successivi al lancio, indicativamente previsto per dicembre 2024 su console Microsoft e PC. Questo vuol dire che Indiana Jones e l'antico cerchio uscirà su console Sony nel corso del 2025. Ma c'è di più, perché sia Jess Corden di Windows Central che Andy Robinson di VGC hanno sentito dire dalle loro fonti che Microsoft starebbe valutando di far uscire tutti i suoi giochi anche su PlayStation 5, mentre altre fonti parlano solo di alcuni giochi in uscita su console non Xbox. E su questo devo dirvi che da Reddit c'è Andy Robinson di VGC che parla della strategia multipiattaforma, lo potete andare a ritrovare voi stessi su Twitter e dice io a dir la verità ho sentito che molti più giochi rispetto a quelli di cui si sta parlando in questo momento sembrano essere indietro, cioè pare che stiano valutando molti più giochi. Special Nick parla di Starfield come non l'unico, presume che anche Hellblade 2 potrebbe arrivare in futuro su PlayStation 5 e Jess Corden va diretto al punto e dice Microsoft non è felice di quanti soldi la strategia attuale dovrebbe fare, cioè le previsioni dell'attuale strategia non sono adeguate dal punto di vista finanziario e Jess si aspetta che Starfield arriverà su PlayStation e ha sentito sia alcuni che tutti i giochi che dovrebbero arrivare in multipiattaforma da differenti fonti. Bene, allora ragazzi, questa è una cosa piuttosto grandina nel senso che io ovviamente semplicemente da giocatore e da giocatore disinteressato alle varie piattaforme come qualsiasi persona che ha superato la seconda elementare dovrebbe essere o la seconda media, dai, parliamo sempre la Manistra De Angelis, giusto? È in seconda media, giusto. Però ovviamente se devo guardare il semplice mercato dico che questa è una cosa piuttosto importante, no? Certo, Microsoft non ha avuto negli anni la stessa politica di esclusività di PlayStation o di Nintendo, quindi si può dire che nel caso di Microsoft il passo non sia così enorme, d'altronde però sapere che questi giochi arriveranno poi anche su PlayStation rende questa strategia in realtà molto diversa da quella che ha fatto Sony, perché a una prima occhiata si potrebbe dire d'accordo, lo sta facendo anche Sony, no? I giochi PlayStation praticamente tutti non arrivano più solo su PlayStation, a distanza di un po' di tempo arrivano su PC. Però tanto per cominciare, a distanza di, al momento, tipo due anni, a volte un anno, alcuni giochi potrebbero arrivare i live service in contemporanea anche su PC, ma quelli perché sono i live service, ma su Xbox no, giusto? Ecco. E invece Microsoft sta pensando proprio di mettere il turbo e pubblicare ovunque. Questa è una strategia differente, sicuramente, ed è una cosa che fatico un po' a ricepire al 100% perché pensavo che la strategia di Microsoft fosse il nostro ecosistema, gli diamo questo valore con questi giochi in esclusiva, ma in realtà l'accesso all'ecosistema Xbox non prevede necessariamente l'uso della console, è tutto anche su PC, la Series S costa poco, c'è Xcloud che arriverà un po' ovunque, anche sulle app per, diciamo, per Smart TV, per dire, o su tutti i telefoni, tutti i tablet, eccetera, la strategia finora era questa. Quasi stavo ciferando di questa cosa, ora, parliamoci chiaro, io non ho idea se saranno pochi giochi ad arrivare o saranno tutti giochi, ma se ne parlano in questi termini vuol dire che almeno qualche gioco probabilmente arriverà, e quindi un indebolimento della strategia che vuoi o non vuoi credo che andrà un po' in questa direzione, quindi mi pare di capire che da questi rumor che sembrano piuttosto fondati, cioè, tutte queste persone che sono persone con una certa notorietà, non penso che parlerebbero di questa cosa se non avessero delle fonti relativamente certe, no? Quindi è dato immaginarsi che la direzione sia quella. Quanto lo faranno? Non è dato saperlo. Ora però c'è da capire perché lo stanno facendo, e se la strategia è cambiata perché non sta facendo abbastanza soldi, vuol dire che Microsoft di questa cosa si deve preoccupare, giustamente. E non è una cosa nuova perché in realtà, sia da un po' quello che ha detto Phil Spencer nel corso degli anni, sia soprattutto dai leak che sono venuti fuori di Microsoft l'anno scorso, si è capito che questa strategia non è che sta fallendo, sia chiaro, però si aspettavano che avesse un risultato migliore allo stato attuale delle cose. La cosa che mi lascia un po' in dubbio però è che se questa strategia non ha funzionato perché, o non ha funzionato abbastanza, perché le persone non sono abbastanza attratte ancora dal Game Pass, perché dovrebbero essere più attratte da un qualcosa che al momento sarà su Game Pass, ma possono giocarlo anche su altre console? Uno potrebbe rispondermi, beh, però l'attrattiva del Game Pass è perché c'è l'abbonamento, i giochi non li devi pagare proprio sull'unghia e su questo sono perfettamente d'accordo, ragazzi. E sto cercando nella mia mente di bilanciare un po' queste cose e dopo queste notizie devo dire che fatico un po' a trovare il bandolo della matassa. Ed è questo uno di quei casi in cui vi dico apertamente, ragazzi, voi che cosa ne pensate? Perché io fatico un po' a ragionare in questi termini e a capire dove Microsoft vuole andare a parare, ok? Se è una mossa derivante dal vogliamo assolutamente fare qualcosa in più perché così non va bene, o se è derivante dal ci sono delle occasioni che crediamo possano essere migliori e quindi stiamo portando i giochi su PlayStation e su Switch anche per questo. Non lo so. Sicuramente avremo modo di parlarne perché se è vero quello che è stato detto in primavera, cioè fra non molto, si verrà a sapere, questa cosa verrà comunicata e avremo modo di discuterne, ragazzi. Voglio sapere a questo punto la vostra opinione. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Ti piace comprare tanti giochi, vero? E' davvero un peccato che i prezzi dei giochi siano così alti che devi cominciare a verificare le quote sul mercato nero per la vendita clandestina di organi interni. Se solo ci fosse un modo per avere i giochi a un prezzo più basso, aspetta, ma c'è! Puoi usare Instant Gaming. Instant Gaming è un sito su cui puoi comprare chiavi di gioco per molteplici piattaforme ad un prezzo scontato rispetto agli store ufficiali. E' serio, testato, sicuro e sempre ricco di tante scelte. Quindi puoi comprare tanti giochi, evitare di separarti da un rene, fare cose e non incappare nei malnati. Sul sito trovi periodicamente offerte, promozioni, giochi appena usciti, giochi in preordine e anche card degli store PlayStation e Xbox con cui puoi pagare di meno anche se compri altrove. In descrizione trovi il link per acquistare su Instant Gaming, così risparmi, non perdi un rene e le cose. Compra anche tu su Instant Gaming. Ora, torniamo alle news. Rimaniamo nell'ambito Microsoft, ragazzi, perché le news interessanti oggi non sono finite qua. Abbiamo recentemente parlato della eventualità che potrebbe arrivare un nuovo tipo di hardware da parte di Microsoft, giusto? Il che lascia presagire il fatto, come avevamo già discusso in precedenza, che la strategia per quanto riguarda la presentazione dell'hardware di Microsoft sia cambiata. Ora, una fonte di solito molto informata su queste cose che seguo anche personalmente, ora sta parlando di un'altra cosa ancora e questo potrebbe essere un ulteriore, diciamo, cambio di strategia o forse di una difficoltà a riguardo. Vediamo di che si tratta. Xbox Next, che sarebbe la, diciamo, nuova Xbox della nuova generazione, uscirà in ritardo rispetto a PS6? Gli ultimi rumor di Moore's Law is Dead. Dopo aver condiviso delle interessanti riflessioni sulla progettazione di PlayStation 6 e PS Vita 2, e di questo abbiamo già parlato, lo youtuber Moore's Law is Dead torna alla carica per fornire nuove anticipazioni legate questa volta allo sviluppo della prossima generazione di console Xbox. Cattori contenuti specializzati in leak tecnologici sostiene infatti che Microsoft abbia stretto solo da poco gli accordi con AMD per la produzione di Xbox Next. Ha detto lo youtuber, infatti, se Sony ha deciso di affidarsi subito alla Casa Rossa per progettazioni di PS6, la casa di Redmond avrebbe inizialmente sondato le partnership con NVIDIA o Intel per abbattere i costi di produzione e valutare le rispettive soluzioni tecnologiche. Secondo Moore's Law is Dead, solo di recente Microsoft avrebbe sciolto gli ultimi dubbi sul partner tecnologico per la realizzazione di Xbox Next e ha optato ancora una volta per AMD. e dice Fino a un mese fa non era stato firmato ancora nessun contratto tra Microsoft e AMD per la creazione di hardware di nuova generazione, afferma lo youtuber. Prima di sottolineare come Sony al canto suo ha già firmato da tempo questi contratti post PS5 il che significa che sia PS6 che PS Vita 2 lui la dà quasi per scontata potrebbe essere già in una fase di sviluppo molto avanzata rispetto a Xbox Next. In base a quanto sostenuto Moore's Law is Dead quindi Microsoft potrebbe essere molto indietro rispetto a Sony perché sta iniziando solo ora a progettare l'hardware della nuova Xbox con AMD da qui l'ipotesi del lancio posticipato di Xbox Next rispetto a PS5 prescindere dall'attendibilità delle anticipazioni però è importante sottolineare come il possibile ritardo nella firma dei contratti con parte tecnologico non implica necessariamente un rinvio nella progettazione di una console dato che il processo di sviluppo, soprattutto in fasi iniziali potrebbe avvenire in maniera indipendente al colosso high tech del silicio scelto per avviare la produzione, ok? Non è un caso infatti se altri addetti al settore come Brad Sam's ritengono che il lancio Xbox Next potrebbe avvenire già nel 2026 che è quello di cui abbiamo parlato ed è proprio di questo di cui voglio parlarvi ma anche di un'altra cosa. Ora, non vi ho portato questa notizia non ho portato questa notizia alla vostra attenzione per parlare oh mio Dio, Xbox potrebbe essere in ritardo rispetto a PS6 anche perché francamente ne dubito non penso che un'azienda come Microsoft voglia esporsi a una cosa del genere arrivando palesemente in ritardo rispetto alla concorrenza quando tutto è stabilito una cosa del genere te la puoi aspettare da un'azienda relativamente nuova nel settore che sta cercando di fare del suo meglio, no? anche grande, pensate a Intel per quanto riguarda le GPU eccetera sta facendo del suo meglio per offrire dei prodotti ma è ovvio che deve ancora recuperare terreno, no? lato GPU pur essendo un'autorità nel campo delle CPU da già tantissimo tempo ma per Microsoft non è così e mi pare difficile che sia veramente questa la realtà che si parli di un ritardo, ok? Quindi, messa a tacere questa cosa perché secondo me questa cosa anche se è vera di solito More Love is Dead è piuttosto informato su queste cose non necessariamente significa che lo vedremo veramente in ritardo poi la console nel senso in uscita poi sul mercato la cosa però interessante secondo me è quella di due tipi perché se è vero che Microsoft ha cambiato la sua strategia sull'hardware come abbiamo già discusso un po' di tempo fa e non solo non vuole mettere una console mid-gen sul mercato ma vuole anticipare l'uscita della next gen al 2026 e se è vera la strategia che pare che stia cercando di sviluppare una console portatile allora il fatto che forse stia cercando delle alternative per abbattere i costi di produzione stia cercando delle cose diverse è effettivamente una cosa interessante perché vuol dire che Microsoft sta cercando di differenziarsi dalla concorrenza non solo dal punto di vista dei tempi non solo dal punto di vista dei prodotti ma anche dal punto di vista della tecnologia utilizzata perché a questo punto se una console monta AMD un'altra console monta Nvidia le performance potrebbero essere simili ma non tutte le tecnologie poi utilizzate lato hardware o anche software da certi punti di vista perché bisogna capire quale anche software sono autorizzati fisicamente a utilizzare sulla console questo potrebbe cambiare le carte in tavola un bel po' e mi pare lì per lì mi è perso un po' strano perché questo probabilmente creerebbe dei problemi di retrocompatibilità mi viene da pensare e quindi secondo me la cosa più probabile che sia successa è esattamente questa hanno cercato di sondare ma alla fine hanno deciso di andare su AMD lo stesso però è figo vedere che effettivamente le aziende stanno cercando di muoversi per differenziarsi da un lato Microsoft in un modo dall'altro Sony dall'altro e questo è il bello della concorrenza ora quale avrà la strategia migliore ovviamente non è dato saperlo e ne parleremo mano a mano che arrivano delle informazioni perché per me sono molto interessanti sicuramente però qualcosa si sta muovendo già per la prossima generazione e da qui al 2026-27 secondo me ne sentiremo un po' di tutti i colori perché se anche la metà dei rumor che si sono susseguiti sull'hardware sono veri beh avremo da discutere un bel po' perché arriveranno sicuramente delle indiscrezioni davvero interessanti fatemi sapere che cosa ne pensate sono molto curioso ora passiamo al lato Sony ok? sapete bene che il franchise di Uncharted è piuttosto famoso ok? piuttosto amato dai giocatori ma è sostanzialmente concluso Naughty Dog ha già detto più volte che dopo quello che è stato fatto con Uncharted 4 più Lost Legacy non c'è molto altro da fare e dei rumor in passato suggerivano che in realtà il franchise di Uncharted non è più tecnicamente nelle mani di Naughty Dog ma è forse un altro studio o altri studi o comunque altri in realtà che si stanno occupando di questo franchise come però non è dato saperlo ora guardate un po' che cosa è venuto fuori recentemente Uncharted Drake's Fortune remake in arrivo le ultime da un noto leaker il sogno di un remake di Uncharted Drake's Fortune potrebbe avverarsi a breve stando a quanto sostenuto al special Nick Baker riferendosi appunto allo sviluppo in gran segreto della versione attualizzata del primo capitolo dell'iconica serie di Naughty Dog il cofondatore Xbox Air ne ha discusso con gli ospiti il suo ultimo podcast lo stesso di cui abbiamo parlato nello scorso segmento praticamente o quasi negli ultimi due e rialciarsi ai mai sopite speranze alla community PlayStation e PC per il ritorno all'odissea Action Adventure Sony starebbe effettivamente quindi lavorando al remake del primo indimenticabile Uncharted lo stesso special Nick ci tiene a precisare che le indiscrizioni non sarebbero recenti ma risalirebbero alla fase non meglio precisata in cui il progetto del remake di Uncharted Drake's Fortune venne sottoposto ai massimi dirigenti di Sony da una serie di voci di corridoio rimbalzate sui social e sui forum di settore sappiamo però che il remake di Uncharted è stato scartato in favore delle remaster di The Last of Us e del remake del primo ok non sappiamo quindi se le indiscrezioni raccolte dal cofondatore Xbox Air siano precedenti a questi rumor anche se i tanti trascorsi la loro diffusione online imparrebbero smentirlo cosa ne pensate di questo ipotetico ritorno? allora questa è una cosa interessante perché se in caso dovesse arrivare ovviamente tanto per cominciare si conferma la strategia di Sony di voler portare un sacco di remake e remaster di titoli molto amati sapete bene che io non amo molto questa strategia di Sony dell'ultimo periodo che tende a ingolfare il mercato PlayStation con questi titoli che sono dei remake anche spesso a breve distanza dal gioco e ogni riferimento al franchise di The Last of Us è puramente voluto però ovviamente rispetto al primo Uncharted che se non era uscito per PS3 quello sì è passato un po' di tempo e un remake ci starebbe anche però un remake di Uncharted ha una doppia valenza perché? perché ci permette di capire se la serie è ancora viva e se vogliono diciamo ricapitalizzare un po' su qualcosa o vogliono veramente rimettere qualcosa sul mercato non solo con un remake ma anche eventualmente con qualcos'altro ma anche avremo modo di appurare se è davvero così cioè se come vi ho detto prima non è più Naughty Dog a occuparsi di questo remake ma è un altro studio oppure se si tratta soltanto di un remake Naughty Dog continua a sviluppare un eventuale seguito no? oppure se è proprio il franchise che è stato direttamente eradicato da Naughty Dog e portato altrove e il remake è soltanto l'inizio di un nuovo modo di trattare il franchise di Uncharted e io da fan del franchise di Uncharted sarei anche felice come vi ho detto però ripeto non è che sono felicissimo di tutti questi remake però le persone li amano quindi Sony li fa non è che c'è molto da discutere a riguardo vediamo come va ragazzi non è la prima volta che si parla di Uncharted e qualche rumor a riguardo giustamente come ha detto all'articolo ma questo giro sembra essere un po' più diciamo solida la cosa più o meno più o meno e di solito Special Nick parla di queste cose quando c'ha qualcosa per mano però certo i rumor potrebbero essere di un po' di tempo fa Sony l'aveva non bocciato questo remake ma aveva preferito farne un altro questo non significa che non possa arrivare e magari il momento potrebbe essere un po' più vicino di quanto immaginiamo chi lo sa chi lo sa fatemi sapere anche su questo che cosa ne pensate e se vorreste un remake del primo Uncharted e beh non si può non concludere la tripletta dobbiamo parlare anche di Nintendo e pensate un po' so che anelate questa cosa dobbiamo di nuovo parlare di Nintendo Switch perché? perché dopo tutti i rumor che si sono susseguiti stanno cominciando ad arrivare delle notizie proprio sulla produzione sui tempi e sull'arrivo di possibili presentazioni no? ecco come vedete i rumor si stanno susseguendo tutti sono lì a unire i puntini e i rumor cominciano ad avvicinarsi più al lato marketing il che vuol dire che le cose sembrano smuoversi bene guardate questa è perché va esattamente in questa direzione Nintendo Switch 2 reveal a marzo GameStop si starebbe preparando ai preordini le rede di Switch potrebbe essere dietro l'angolo quantomeno stanno a sentire rumor che appena hanno trovato infusione in rete secondo un insider il revie della console sarebbe talmente vicino che anche GameStop avrebbe cominciato ad attivarsi per dare il benvenuto lo youtuber Nintendo Prime ancora afferma essere in contatto con un rispettabile ma non meglio identificato insider di GameStop dette questa fonte anonima i vertici l'azienda avrebbero inviato una nota ai propri punti vendita invitandole a prepararsi alla registrazione di preordini della nuova console di Nintendo ciò detto l'insider si aspetta il reveal di Switch 2 entro la fine di marzo 2024 se così fosse la rede di Switch potrebbe dunque arrivare sul mercato entro la fine dell'anno in corso come molteplici rumor suggeriscono da parecchi mesi a questa parte non c'è certezza al momento ma ci sono testate come Bloomberg di cui abbiamo parlato talmente sicuro del suo arrivo ad aver già eletto Switch 2 o Super Nintendo Switch il prodotto videoludico di maggior successo il 2024 bam così successo e maggiore aspettativa del 2024 ok le voci sono talmente insistenti e la comunità così in fribillazione che le azioni di Nintendo hanno già cominciato a volare già quindi ragazzi ormai questa cosa sta cominciando a diventare non dico il segreto di Pulcinella ma quasi perché i rumor ormai stanno cominciando a arrivare a un ritmo tale e che cominciano a riguardare delle cose così un po' più specifiche che ormai siete abituati se seguite le news ormai sapete come va quando si verificano questo insieme di cose generalmente qualcosa c'è anche quando alla fine il prodotto non dovesse necessariamente essere questo vi ricordate tutti i rumor su questa Nintendo Switch Pro che doveva arrivare eccetera e poi si è rivelata essere cosa una volta la OLED e una volta la Switch Lite no? quindi alla fine i prodotti non erano quelli però il rumor in realtà era sensato cioè stava per arrivare un nuovo hardware di Nintendo ecco beh a sto giro direi che c'è poco da discutere perché è ovvio che ormai 2024 date alla mano è ora di una nuova console Nintendo per quanto riguarda i tempi è già da un po' che continua ad arrivare questa voce e se veramente dovesse essere presentata a marzo 2024 allora forse un'uscita per la fine dell'anno potrebbe anche starci dal canto mio come vi ho detto già più volte continuo a pensare che forse la cosa più sensata sarebbe un'uscita della console all'inizio del 2025 però dopo tutto questa fine 2024 si sta cominciando un po' ad affollare di hardware perché è già da un po' che si parla dei rumor sulla PS5 Pro in uscita verso la fine del 2024 e chissà che altro c'è perché abbiamo appena parlato delle programmazioni hardware di Microsoft e delle voci su una console portati e quelle probabilmente sarebbero più in là sia chiaro però chi lo sa chissà che cosa può arrivare e ovviamente tutti i giochi che si portano dietro anche quello fa parte della strategia sicuramente di Nintendo e quindi ci sarebbero anche dei giochi che potrebbero cascare nel periodo natalizio e essere una presenza importante sul mercato bene quindi sommando tutto questo io direi che la cosa comincia a farsi sempre più chiara pezzetto dopo pezzetto sapete bene che le news su Nintendo Switch 2 si continuano a susseguire già da un po' probabilmente sarete anche un po' stanchi di sentirla però insomma queste sono cose rilevanti perciò vi voglio mettere a conoscenza di queste cose quando arrivano fatemi sapere che cosa ne pensate voi e ora parliamo del commento del giorno ragazzi c'è Rob Reznor che mi dice ho un'etichetta e confermo tutto la scelta è della gente se vendi meno cd delle copie digitali lo hanno scelto loro ed è applicabile sia al gaming cinema e altri settori questa cosa ovviamente sono perfettamente d'accordo e anzi bello il nick riferimento ai 9 inch nails però voglio aggiungere anche una cosa a riguardo ho preso questo commento non a caso perché sì è un ribadire dal mio punto di vista l'ovvio se le persone comprano e stanno comprando sempre più copie digitali è ovvio che le copie fisiche vengano piano piano meno non necessariamente però si vedrà una totale cancellazione del prodotto fisico legato al videogioco sul mercato vi faccio un esempio la musica ormai i cd sono praticamente spariti l'intera musica mondiale è ormai quasi completamente digitale d'accordo? si parla di una cifra che se non erro è superiore al 93% ma potrei sbagliarmi vado un po' a memoria non mi ricordo neanche di quale anno era sto dato però è comunque la stragrande maggioranza della musica è sul supporto digitale ma negli ultimi anni e va avanti già da un po' c'è stata una sorta di revival per esempio dei vinili ok? perché? perché il vinile ha un suo suono il vinile è un oggetto bello da vedere è un oggetto che ha una sua sostanza un suo peso richiede un suo apparecchio e quindi ha tutto un ecosistema intorno che non è solo un ecosistema è una percezione di valore se vogliamo no? giusto? come una copia deluxe di un gioco o addirittura una collector no? la collector è molto di più perché c'è molta più roba dentro ma il principio potrebbe in futuro essere un po' lo stesso sui videogiochi e vi voglio lanciare questa sorta di cosa che sto pensando già da un po' magari in futuro le copie fisiche dei videogiochi non spariranno del tutto ma esattamente come accade per alcuni dischi no? anzi per molti dischi ci sono i cd che sono sempre di più in formato molto premium no? la classica custodietta di plastica con un booklet di tre paginette io ho un sacco che non la vedo più vedo invece ancora delle copie di cd vendute che hanno la bella copertina in cartone no? hanno una sorta di valore aggiunto e poi ci sono i vinili di cui abbiamo già parlato che è un mercato a sé stante ed è ancora più da quel punto di vista magari il futuro delle copie fisiche dei videogiochi sarà quello di essere considerate come un oggetto che ha un po' più un valore intrinseco e non è soltanto un mezzo per farti usufruire del videogioco e quindi se spariranno dal circolo di massa perché le persone per il concetto di avere semplicemente il gioco lo comprano digitale ma alcuni e non dico solo i collezionisti anche chi gli fa piacere di qualche gioco avere qualche copia fisica potrebbero ritrovarsi sul mercato delle copie fisiche che magari sono un po' più curate no? sono confezionate meglio e costano di più ovviamente un pochino ma quel di più ti dà un qualcosa di tangibile e magari qualche ammenicolo dentro che può essere una bella cosa non dico quelle cose tipo gli adesivi ma magari anche qualche oggettino dentro che non arriva a essere una collector edition ma praticamente è una sorta di normalizzazione della versione deluxe come una cosa che si vende molto meno ma viene considerata dalle persone come la vera copia fisica della nuova era questo è quello che ho pensato io ragazzi voglio buttarvela lì nel senso vi ho proprio detto la mia idea com'è e se pensate che questo potrebbe essere veramente il futuro dal mio punto di vista secondo me è vi dico quasi la soluzione migliore almeno stando al mercato attuale perché è evidente che le persone preferiscono di gran lunga le copie digitali e questo potrebbe salvare un medium fisico no perché c'è chi lo vuole comunque e gli permette di dargli un valore aggiunto e magari una motivazione a prendere qualche copia fisica perché è proprio bella d'accordo e non è la classica copertina di plastica no a mettere in libreria una dopo l'altra e sono tutte uguali no magari ognuna avrà la sua specificità fatemi sapere un po' che cosa ne pensate ragazzi un po' che la penso questa cosa sto giro ve l'ho proprio voluta dire ti piacciono le news allora non tirarti indietro come i malnati se ne hai la possibilità puoi abbonarti al canale diventa sponsor delle news così Chris può fare più news ancora meglio perché non è più povero abbonati al canale così Chris è felice tu supporti le news e le cose ora torniamo alle news e ora passiamo alle news a ruota ragazzi e il Divers 2 sta per arrivare giusto avrà un supporto post lancio spaziale e tutti i contenuti saranno gratuiti di questo gioco è proprio il Chief Executive Visionary of Creative Business Strategy chi sa sti nomi madonna John Pielestad che si è affacciato su Discord per dire che arriveranno tantissimi nuovi contenuti dopo il lancio del Divers 2 saranno tutti quanti gratuiti maggiori dettagli sulla roadmap post lancio verranno condivisi e il lancio è previsto per l'8 febbraio su PC in esclusiva console su PlayStation 5 questo gioco mancano veramente pochi giorni al lancio ragazzi io sono curioso di provarlo se ne sta parlando veramente poco tecnicamente dovrebbe essere una sorta di live service questo gioco qui però sono curiosi di vedere com'è perché secondo me il gameplay e il gameplay loop ovviamente farà la differenza per queste cose grazie al cavolo sì però è importante e questo gioco sembra avere anche una sorta di ironia che è molto carina e mi ricorda Starship Troopers che io adoro quindi vediamo com'è sono molto curioso io cercherò di portarvelo al day one e vediamo vediamo come va ok poi di questa cosa abbiamo già parlato in realtà però ve la voglio riportare perché avevamo detto solo delle indiscrezioni ma Burnout forse sta per tornare c'è un annuncio di lavoro sospetto io adoro il francese di Burnout è il mio gioco di racing arcade preferito in assoluto l'ultima iterazione risale al 2018 l'anno in cui l'apprezzata remaster di Burnout Paradise fece il suo esordio il che vuol dire il remaster di un gioco che in realtà era uscito un po' di tempo fa un po' di tempo prima quindi a lei saranno tipo dieci anni sì il proprio sito ufficiale Stellan Entertainment il team che ha contribuito allo sviluppo di Burnout Paradise Remastered Need for Speed Remastered e Need for Speed Unbound conferma di essere a lavoro su un nuovo racing game di stampo arcade tripla realizzato in Unreal Engine 5 per PC e console di attuale generazione e sembra contenere riferimenti proprio alla serie Burnout con tanto di potenziale citazione a Burnout 3 Takedown e indizi su una natura fortemente spettacolarizzata del gioco attualmente in sviluppo io prego che sia vero perché io adoro questa serie mi manca tantissimo e se facessero un nuovo Burnout con le tecnologie odierne impazzirei e lo vorrei assolutamente subito alzi la manina chi si unisce a questa cosa che vorrebbe rigiocare un Burnout beh solo Dio lo sa ne abbiamo già parlato ma ve lo volevo ribadire per benino magari poi Satisfactory vi ricordate questo giochino l'1.0 esce nel 2024 tante migliori aggiunte in arrivo del sandbox sci-fi è un gioco che ha superato le 5,5 milioni di copie vendute quindi ottimo c'è la possibilità di iscriversi alla Closet Beta Satisfactory 1.0 dove portare in dote numerose funzionalità inedite e includere tutta una serie di elementi narrativi una storia suddivisa in capitoli altri contenuti nel meglio specificati quindi se lo conoscevate già è un buon modo per ritornarci perché stanno per raggiungere tante cose e se non lo conoscevate vi raccomando di darci un'occhiata perché è molto carino ok quindi dateci un occhio poi si è parlato di Suicide Squad giusto? bene ci sono meno di 14.000 utenti in simultanea su Steam ok ecco dopo una decrescita di utenti online nel medesimo momento l'impennata di persone in simultanea su Steam ha meno di 14.000 persone Rocksteady non è riuscito a fare cento con il gioco che si faceva carico più o meno direttamente l'eredità dell'iconica trilogia di Batman non proprio a dire la verità però vabbè Suicide Squad Kill the Justice League è fermo a 13.459 utenti attivi in simultanea il risultato raggiunto nell'arco delle ultime 18 ore e quanto riportato da SteamDB corrisponde al picco massimo di utenza registrato fin dal suo esordio e Suicide Squad non è tra i 100 titoli più giocati su Steam pur avendo un quantitativo di recensioni positive molto alto non è un 85% la portata a valutazione complessiva del titolo è molto positiva però non ci stanno giocando in tanti e per un live service questa io spero ragazzi che sapete ho pubblicato recentemente la recensione quindi sapete che cosa ne penso secondo me questo gioco ha fallito in quello che vuole fare ha alcune cose belle quelle sì sicuramente il gameplay non è affatto male i personaggi sono belli ci sono cose belle in questo gioco il problema è che non gli è riuscito il live service secondo me però vabbè lo vedremo lo vedremo e io spero che si alzi però vi dico la verità non penso che succederà ok poi neanche fortnite ferma il fenomeno palworld l'incredibile numero di ore giocate su xbox guardate un po' nel giornale di venerdì 2 febbraio la media del tempo trascorso l'universo di palworld ha raggiunto i 190 minuti un valore di poco eccezionale se pensiamo che l'altro titolo più fruito dell'utenza xbox che è fortnite sia dovuto accontentare di una media giornaliera di soli 111 minuti ovvero i domatori di palworld che trascorrono in media più di 3 ore al giorno la dimensione open world dei survivor con i pokemon armati vabbè la media questa però c'è gente che ovviamente ci sta perdendo la vita sopra e questo è un buon segnale di salute di un gioco anzi questo è proprio eccezionale questo è fuori scala Microsoft ha già fatto sapere aver avviato una setta collaborazione con pocket pair per garantire il massimo supporto a palworld con server dedicati tante migliorie e questo l'avevamo già visto oltretutto guardate un po' sono 500.000 dollari al mese per gestire i server e un solo ordine mai farli cadere tra il serie e il faceto il CEO di pocket pair Takuro Mizobe che è un matto santi Dio mi sta troppo simpatico pubblicato su Twitter il resoconto del pagamento per l'affitto mensile di server di palworld che supera i 70 milioni di yen tra 478.000 dollari e 440.000 euro al mese sicuramente molto elevato però vabbè in senso mi sta tanto che i soldi l'hanno fatti al momento pocket pair non può fare altrimenti l'intero mondo videoludico ha gli occhi puntati su palworld e ci sono almeno 20.000 di giocatori paganti tra chi ha acquistato direttamente il gioco e chi è abbonato a Game Pass nei commentari post il CEO il network engineer Churo Hiroto ha rivelato di aver ricevuto l'ordine e tenere i server accesi a qualsiasi cost e soprattutto senza badare a spese bam vabbè direi che in questo momento il problema di soldi non ce l'hanno chissà nel futuro ne abbiamo già parlato giusto ragazzi io spero io spero che il team sia all'altezza di mantenere vivo questo gioco in maniera adeguata con nuovi contenuti e con miglioramenti continui lo spero perché tante persone lo stanno apprezzando e sono convinto che questo gioco abbia ancora più da offrire poi Star Wars Outlaws vi ricordate il gioco di Ubisoft la galassia non è poi così lontana e potrebbe uscire prima del previsto tra le tante cose che Disney aveva fissato il tardo 2024 ha corretto con il tiro con un più generico più avanti nel 2024 non ci sono indicazioni precise da finestra temporale Tom Henderson arriva in soccorso e ha spifferato quelli che potrebbero essere i piani interni di Ubisoft il piano di Ubisoft e Massive Entertainment sarebbe quello di pubblicare Star Wars a maggio 2024 quindi prima del late 2024 circolato nei mesi scorsi la data di lancio cadebbe dunque nel mese dei festeggiamenti del franchise sebbene aggiornate il 4 maggio may the fourth be with you sia già fuori discussione essendo un sabato e vabbè sarebbe bello riceverlo prima è previsto ma speriamo che il gioco sia bello questa è la cosa principale e francamente dei vari progetti di Ubisoft di questi ultimi anni questo è uno di quelli che un po' mi attira perché sembrava intrigante però staremo a vedere a proposito di Ubisoft Assassin's Creed Infinity ancora nei piani di Ubisoft sempre Tom Henderson ne parla Assassin's Creed Infinity sarebbe ancora vivo e vegeto sarebbe continuando a prendere forma all'interno delle fucine digitali di Ubisoft e nel corso della prossima settimana quando riceverà delle risposte alle domande che apposto le sue fonti fidate magari ci darà degli aggiornamenti lo stesso showcase che ha tolto i veli a Codname Red e Codname Max ne ha parlato in Ubisoft Forward di settembre 2022 certo è passato un po' di tempo ma una strategia del genere ci guarda del tempo per metterla in atto probabilmente e per chi non lo sapesse questo dovrebbe essere un hub progettato per fungere a collegamento tra i futuri Assassin's Creed è una sorta di animus vero e proprio una piattaforma che funge da un unico punto di ingresso verso le differenti epoche storiche figo non sappiamo quando vedrà la luce a rigorti logica dovrebbe debutare insieme a Red che rappresenta il prossimo episodio principale staremo a vedere se è davvero così a me sembra una cosa mostruosamente ambiziosa questa qui però vedremo vedremo se veramente faranno così mi viene da pensare che sarà connesso anche con un ragionamento sui remake secondo me però questo è speculare un po' troppo ok e poi sempre Tom Henderson Battlefield 7 potrebbe slittare fino al 2026 DICE non vuole sbagliare e sarebbe anche il caso l'insider ha affermato che l'attuale obiettivo sarebbe quello di lanciare il prossimo Battlefield ai mesi di ottobre novembre 2025 ma non è esclusa la possibilità di un rinvio al 2026 fondamentalmente è stato già detto durante la call finanziaria di EA quello che mi è stato detto per il momento puntano ottobre novembre 2025 ma internamente si stanno concentrando molto a imparare gli errori commessi dunque personalmente non escluderei un lancio il 2026 c'è anche da dire che il 2025 è già pieno di grossi giochi AAA specialmente l'ultima parte dell'anno ok ecco la certezza è che sicuramente non arriverà nel 2024 quindi sì perché si sta aspettando un nuovo Battlefield ci sarà da aspettare ma c'è un'enorme stagione 7 di Battlefield 2042 che prenderà il via a marzo 2024 e mi dicono mi dicono perché io non l'ho provato e che è migliorato molto nel corso del tempo quindi beh se non altro c'è questa cosa positiva e per l'offerta di oggi ragazzi io vi voglio ripresentare questo gioco qua perché credetemi negli ultime ore ci sto giocando e mi sta sorprendendo sempre di più allora Granblue Fantasy Relink ragazzi è uscito il 2 e ci sto giocando già da pochi giorni e lo sto tritando il più velocemente possibile con puntate anche lunghe lunghe vi consiglio di guardare la puntata che pubblicherò oggi sul secondo canale YouTube ok è lunga lo so ma credetemi soprattutto l'ultima parte merita sono capitate delle cose e veramente spettacolari e onestamente questo gioco mi sta piacendo sempre di più man mano che vado avanti quindi allora in questo momento mentre sto registrando lo vedete in questo momento il prodotto è esaurito ma insomma arrivano nuove chiavi quindi si tratta semplicemente di monitorare c'è anche qua notificami via email quando torna disponibile è una cosa che vi consiglio di utilizzare perché funziona e io l'ho utilizzata molto spesso qui su Instant Gaming e il gioco è al 34% di sconto invece costare 60 costa 39,89 credetemi questo gioco è veramente bello vi deve piacere lo stile e l'action jrpg ovviamente ma oh finora mi sta veramente sorprendendo in positivo nonostante avessi già provato in un'anteprima già come sempre vi ricordo che io sono parte dell'ufficiale Instant Gaming quindi se prendete il gioco attraverso il link qui sotto in descrizione è un link affiliato a me arriva qualcosa quindi è un buon modo per supportare il mio lavoro il canale e il format delle news bene gente è tutto per le news di oggi grazie mille per aver visto questo episodio noi ci vediamo al prossimo come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale seguitemi su Twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link a miei social e community tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon Instant Gaming e il link a Patreon e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast a domani ragazzi grazie a tutti